Mentre viene consegnata una targa al sindaco di Firenze, tra l'altro io ne approfitto perché, come hai detto, gli impegni sono tanti, c'è Giunta, poi c'è la Leopolda, no? E quindi la due giorni sarà calda a Firenze in tutti i sensi. Detto che se lei porta il nostro invito al Presidente del Consiglio non ci dispiace, cioè lei dica che qui all'Istituto degli Innocenti proveremo a parlare realmente di futuro guardandoci in faccia senza usare giri di parole, dicendo anche delle cose spiacevoli. Come ha fatto lei dal palco? È stato molto esplicito. Se continuiamo ciascuno a difendere il fortino di qui sopra, buonanotte. Mi fa piacere che lei abbia accolto, come dire, l'aspetto dell'ispirazione da cui siamo voluti partire perché è assolutamente centrale. Nella sua epoca d'oro, che per fortuna è durata veramente tanto e i cui riflessi ancora oggi possiamo vivere Firenze, beh, che cosa faceva Firenze? Riconosceva le idee, anche le più rivoluzionari, anche quelle che potevano sembrare, nell'arte, nel pensiero, nella letteratura, le più fuori contesto, le difendeva e dava a queste idee la possibilità di avere un futuro e di da questo polmone di cultura e di vita arrivare in ogni angolo del mondo. Beh, direi che da lì veramente possiamo ripartire. È chiaro che oggi è un altro mondo, è tutto diverso, però attenzione, informazioni e valori viaggiano ad una velocità immensamente superiore rispetto all'epoca medicea. Quindi saltiamo in groppa a questo metaforico cavallo e rendiamoci conto che da questo paese possono ancora partire delle esperienze semplicemente straordinarie. A qualcuno, i cinici non mancano mai, potranno apparire vuote parole, me ne rendo conto, corro il rischio, ma se uno è a Firenze e si trova anche a regalarsi cinque minuti di passeggiata e di calpestio di quei ciottoli, abbiamo due possibilità. O ci facciamo ispirare o abbiamo un problema, è anche piuttosto grosso. Ancora grazie al sindaco Nardella. Tocca al presidente di Andaf, Fausto Cosi. Grazie ovviamente a lui per aver messo su questa due giorni straordinaria. Buon lavoro. Grazie, grazie Fulvio. Buongiorno a tutti e benvenuti a Firenze per il 38esimo congresso nazionale di Andaf. Andaf ha 46 anni di vita, ma non li dimostra e ogni anno invece ringiovanisce perché questo spirito critico, questo spirito costruttivo, questo spirito di proposta fa parte del nostro DNA ed è il segno distintivo del nostro operato negli ultimi anni che devo dire ci ha portato con un percorso sicuramente lento ma sicuro ad affermarci nel contesto economico di riferimento come una piccola associazione che però ha voglia, ha idee e si assume delle responsabilità per il ruolo che noi ricopriamo nelle aziende cercando di portare il nostro contributo per il miglioramento della situazione generale. Sarà un piccolo contributo ma anche da qui, anche quest'anno vedrete che qualche idea giusta potrà partire. Il programma dei lavori prevede alcuni temi di grande rilievo che costituiranno un po' il filone sul quale ci muoveremo. Le riforme per la ripresa, il titolo l'abbiamo dato a marzo, aprile, poi devo dire che il governo attuale sta lavorando molto e anche in termini concreti sul piano delle riforme e fortunatamente, devo dire, quest'anno non abbiamo parlato di lavoro perché noi abbiamo dedicato al lavoro il congresso 2011 e quello 2013. Quest'anno no, ma se l'avessimo fatto saremmo stati un po' voglio dire svuotati di contenuti perché gli ultimi provvedimenti sono stati estremamente importanti, tra i quali il già citato eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro. Tema sul quale nel 2009, e il dottor Lamattina sarà a buon memore, nel congresso di Venezia del 2009 noi facemmo proprio un documento ufficiale per chiedere l'eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro. Ecco, finalmente ci siamo arrivati e riteniamo che questo sia un elemento di grande importanza in prospettiva futura, così come queste iniziative per agevolare le assunzioni a tempo indeterminato che vanno in una direzione ben precisa e certamente condivisibile per la riduzione del costo del lavoro. Quest'anno ci soffermeremo in particolare sui rapporti con la pubblica amministrazione, sappiamo quanto questa situazione di burocrazia crei delle penalizzazioni all'attività delle imprese, alla nostra attività quotidiana con dei balzelli a volte inutili che fanno perdere soltanto del tempo e questa interrelazione deve migliorare e la semplificazione è un tema centrale. Così come dedicheremo uno spazio alle camere di commercio, c'è anche qui una riforma in atto che ne dovrà ridisegnare il ruolo e i contenuti. È una riforma che impatta pienamente sull'attività delle nostre imprese e anche su questo vedremo quello che ci attende. Così come la giustizia. La giustizia è uno dei buchi neri della nostra organizzazione statale, tutti noi lo sappiamo, non è possibile andare avanti in un contesto del genere. Devo anche dirvi che abbiamo invitato numerosi magistrati ma nessuno di loro è accettato alla fine l'invito, tutti hanno declinato, noi ne l'avremmo messi certamente all'agonia ma volevamo sapere da loro quelle che sono le difficoltà operative che hanno per contribuire poi a migliorarle certe situazioni. Ma questo tema è centrale perché sicuramente allontana gli investimenti dal nostro paese quando c'è un'incertezza così grande sui temi della giustizia civile. Poi c'è la parte tributaria, il processo tributario. Poco si parla ma tutti noi lo sappiamo quando arrivano certi soggetti in azienda che sia la Guardia di Finanza che sia l'Agenzia delle Entrate ecco l'azienda va in una sorta di limbo per un tempo non quantificabile a priori e le migliori risorse dell'azienda debbono essere destinate per tutto quel periodo a occuparsi di certe situazioni che poi quasi sempre e quasi normalmente sfociano incontenziosi di natura tributaria dove oltre al tema tempo c'è anche un altro elemento che ci sembra da sottolineare l'incertezza perché qui non c'è una omogeneità di giudizi né altro qui siamo veramente in un campo in cui a Firenze si decide in un modo e la stessa fattispecie a Trieste o a Campobasso viene decisa in un altro quindi anche questo per le aziende per fare impresa è un tema assolutamente importante inoltre il fisco è un tema sul quale tutti noi ci siamo molte volte addentrati Andaf non chiede una riduzione delle aliquote non intende fare un ragionamento che afferisce l'entità delle aliquote fiscali questo non è un tema che ci compete abbiamo fatto nel nostro piccolo una battaglia per l'IRAP perché è iniqua era iniqua questa penalizzazione del costo del lavoro non per sgravare le imprese da un onere noi non intendiamo entrare nel dibattito sulla entità delle aliquote noi chiediamo un fisco più semplice noi chiediamo una semplificazione vera Andaf ha scritto un libro bianco per questi temi questo libro bianco è stato portato all'agenzia delle entrate perché abbiamo un comitato tecnico formato da esperti che lavora e lavora bene e lavora attivamente prendendo spunto dalle esperienze quotidiane sul campo, sulla tavola di tutti noi ecco questo libro bianco è stato portato all'agenzia delle entrate ed è stato accolto anche con molto molto interesse cui spero possa venire dato seguito anche nelle prossime settimane e coloro che stanno gestendo questa situazione sono tutti colleghi qui in sala e li ringrazio specificatamente per questo argomento questi sono i temi sui quali noi lavoreremo creando delle opportunità e delle premesse per dare contenuti alla nostra iniziativa che possano avere anche un seguito presentando documenti nelle sedi competenti dove auspichiamo vengano esaminati con la dovuta attenzione io vi ringrazio tutti mi fermo qua io parlerò domani alla fine e dirò altre cose penso importanti anche più di carattere associativo ritengo di chiudere qui questo intervento e di dare quindi la parola a Fulvio per iniziare i lavori nel concreto con il primo relatore intanto grazie a tutti e benvenuti grazie al presidente Fausto Cosi tra l'altro anticipo un tema che andremo viene un attimo qui dai Fausto anche perché ti giro un microfono so che ci tieni tantissimo avremo modo tra oggi ah no è vero è vero sei microfonato tra oggi e domani di tornare sul punto oltre quelli che già hai sottolineato io l'ho detto qui non si tratta di scattare l'inesima fotografia di ciò che non va però nello stesso tempo gli allarmi li dobbiamo saper valutare un'Italia che a livello imprenditoriale si vende tra virgolette e perde i gangli decisionali magari mantiene qui la produzione ma so che tu vuoi sottolineare questo rischio se però il cervello non è più da noi è un tema molto importante molto importante che tocca proprio anche la classe dirigente del nostro paese quindi le nostre aziende stiamo assistendo a cessioni di aziende italiane storiche marchi famosi anche qui a Firenze uno molto importante sta per passare di mano a fondi di investimento esteri o a investitori esteri in tempo di crisi basta arrivino soldi va tutto bene e quindi da un certo punto di vista si proseguono attività si lasciano posti di lavoro perché in questo caso i posti di lavoro restano fortunatamente qua ma ci dobbiamo interrogare su una prospettiva futura perdendo tutte queste belle aziende a livello di capitale poi i centri decisionali signori si stanno via via trasferendo all'estero e quindi per la nostra prospettiva anche dirigenziale è certamente un depauperamento questo e quindi accettiamo ecco anche questi investimenti esteri certamente possono far piacere però dobbiamo anche sapere che ci può essere un rischio potenziale nel futuro per i nostri giovani perché ci saranno delle minori opportunità rispetto a quelle che noi abbiamo avuto nel passato questo è un dato di fatto ed è una circostanza che dobbiamo oggettivamente sottolineare come un punto interrogativo importante la risposta la risposta può essere la formazione la risposta può essere la formazione nel senso di creare delle premesse affinché i nostri giovani possano formarsi in termini sempre più competitivi e quindi anche una riforma dell'università del meccanismo degli stage al quale noi crediamo molto e che è molto importante andrebbe ulteriormente valorizzato al fine di consentire ai giovani che escono dall'università di avere delle reali esperienze e prospettive di inserimento ad alto livello nel mondo del lavoro che sia in Italia o anche all'estero va bene però dobbiamo creare delle premesse più importanti rispetto a quelle che abbiamo grazie della domanda grazie ancora Fausto Cosi ovviamente appuntamento a domani di sicuro quando andremo verso la fine dei lavori ma se ci saranno altre occasioni anche nel corso della giornata e dei lavori congressali grazie a tutti grazie a tutti